Ci siamo, ciao ragazzi in diretta, allora oggi intanto buon mercoledì, Ginevra Antonini mi sta scrivendo messaggi privati, Ginevra vieni in diretta allora oggi una bella sorpresa perché abbiamo con noi, naturalmente l'avete visto dal lancio di ieri, dalle storie di ieri abbiamo Gino Sorbillo direttamente da Napoli che ci farà una pizza, spero, e Daniele Persegani facciamo così, colleghiamoci prima con Daniele Persegani, che poi ci farà, uh Zenith, che c'è che non va, Daniele, uh Zenith, saluta a tutti mi sta salutando a modo suo naturalmente, Dani io ci sono Sorbillo e con Ludovica che stava setacciando un chilo tre cinquanta quant'era? Eccolo, ah vai, mi sa che c'è, Gino ti prego, ci sei, no? Ci sei, ci sei? Secondo me sì, secondo me ce la facciamo sto giro, Gino? Eccolo? Andiamo a Napoli, dalla bassa, andiamo direttamente a Napoli a vedere che cosa succede eccolo qua, eccolo qua, eccolo Gino Sorbillo che è online, quindi aggiungiamolo subito e Gino che sta a casa con Ludovica, come tutti quanti